Assolutamente no, già era stato difficile con i magheggi fatti in primavera convincere l'Unione Europea che ci chiede al 2018 il close to balance, vale a dire andare vicino al pareggio di bilancio. Se poi adesso si dimostrerà che non si coprono gli 80 miliardi, vedi le clausole di salvaguardia per cui se no aumenta l'IVA al 25,5% nei tre anni, veramente siamo fuori dalla grazia di Dio. E il buon Google dovrebbe sapere che per la nostra Costituzione non si possono coprire buchi di bilancio con promesse vaghe. Semplicemente non è possibile, semplicemente non è possibile farlo con le una tantum come rientro dei capitali dall'estero che tante sorprese daranno in negativo. Quindi quelle di Renzi sono delle chiacchiere annuncite, si diceva una volta, di qualcuno che è un po' disperato perché non sa come uscire dai guai. Lei pensa che abbia fatto questo perché...